Gli irriducibili della palestra non si sono fermati neanche ai divieti più stringenti, alle raccomandazioni più spinte a riguardo di starsene a casa, a nulla è valsa la scura del codice penale previsto nei casi di inosservanza delle disposizioni ministeriali. Anziché io resto a casa, io vado in palestra. Sei irriducibili bodybuilder che non volevano assolutamente interrompere il loro programma di allenamento al grido di obicipiti o morte, nottetempo, allora pressoché identica a quella dei ladri intorno alle 5 della mattina, con la complicità del titolare di una palestra di Fano, si sono dati un gran bel da fare con manubri, bilanceri e pesi. Ma il via vai di auto nei paraggi della palestra non è sfuggito all'occhio delle telecamere di cui Fano ormai si è dotata e per cui, come annunciato dalla polizia locale, vengono monitorati tutti i movimenti all'interno dei confini cittadini. Individuato così il luogo di ritrovo della gang del peso, uomini del commissariato di Fano e della polizia locale, dopo un appostamento, hanno sorpreso in flagrante. Verso le 7 di questa mattina i pesisti in piena attività. E a nulla sono valsi i tentativi di nascondersi anche nello sgabuzzino delle scope. Tutte e 6 sono stati individuati e denunciati come prevede l'articolo 650 del decreto.